Siamo davanti al laboratorio di idee di Archimede. Entriamo nel laboratorio di Archimede. Guardate questo Pinocchio che pedala, questa ruota che gira, questa ruota piena di giochi che si muovono. Come ti chiami? Chiarillo Mauro. Complimenti Chiarillo, vedete, stiamo qui praticamente nel negozio di Geppetto. Ora Chiarillo non conosce, al negozio come si chiama Chiarillo Mauro? Le idee di Archimede. Le idee di Archimede. Allora questi oggetti sono creati da Mauro. Cosa fa questa macchina Mauro? Semplicemente un pollo di sapone. Guardate questo signore che pedala, guardate qui il... O meglio, rende felice i migliori di bambini, a migliori di eccessivi. Guardate questo Pinocchio, è Pinocchio ovviamente, la persona che pedala. Allora, elettricamente si abilita tutto il sistema e realizza bolle in automatico. Questo va molto bene. Quando manca il vento, lo è lì. Questo Pinocchio moderno pedala, agita le ali oppure viene alimentato al vento. Grazie a tutti.